ciao ragazzi sono qua non andare fuori sono vicino ma vicino dove? sta bene? sua famiglia, suo padre non c'è male? ha mangiato bene? ancora no buona festa a tutti buona festa a tutti ma non ce l'aveva con le transe questo? non ce l'aveva con le transe? vediamo un po' chiama una transe prova a chiamare una transe amico mio negro prova a chiamarne una vediamo come ti risponde intanto ciao ragazzi ciao come stai? bene amore grazie ha mangiato bene? si grazie scusa la fara vuole io ho spiegato una cosa si tu uomo o donna? io sono donna tesoro tu sei trans donna di cazzo quando parla io farei no capito amore cosa ha detto? ho detto tu sei trans sono donna di cazzo vai 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 lontano no capito amore dove vai? non vieni vicino con me vai vai lontano a te ti piace cazzo? ho detto basta non voglio il problema è tutto tesoro tu hai chiamato me visto il mio cazzo non mi hai chiamato allora? tu stessa di ora non mi piace sei froccio mi dispiace tu sei gay no e quindi amore cosa vorresti dire? non ho capito non va bene così eh sì eh sì tesoro devi modernarti open mind baby sì tu devi essere open mind oh dica basta mi dispiace ti capisco amore perché se non comenta capisco benissimo vai ma non vai desidera ma non voglio o lo desidero ma non voglio non so com è facile devo prendere perché ho paura ai come è facile quando arriva sopra vai bravo eh sicuro sicurissimo tesoro mi dispiace sono abituato mi stai parlando con una psicologa di sesso ciao ci vediamo fra un po' a più tardi ciao 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 david lo sai che ma questa augusta conversazione tra questi due intellettuali della contemporaneità questa augusta conversazione ma tu lo sai questa roba qui andrebbe messa in apertura di trasmissione la donna di caso quella che si definisce io sei tu sei trans no sono donna di caso donna di c'è del caso del destino no no era di cazzo tu devi essere open mind poi un po' la brasiliana e poi effettivamente di fronte all'incertezza del nostro amico come cazzo si chiama 50 cent quel nero che dice sempre quelle cose lei diceva voi no io capisco come sei tu voi no vuoi voi no vuoi quell'incertezza di andare a trans oppure no si 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 beh è una psicologa Marco provincia di macerata vai Marco ciao crux ciao paro ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti